La guerra dell'informazione ha ormai un ruolo fondamentale nell'agenda politica dei paesi confinanti con la Russia. I politici parlano di propaganda e disinformazione, ma gli analisti notano che le opinioni pro-Cremlino sono attivamente promosse anche dalle forze politiche locali. L'attuale governo della Georgia è stato accusato di subire l'influenza russa e servire gli interessi di Mosca. La Russia, che non non sta provando le Géorgia, ma in realtà lavorare con il leadership, è proprio quello che sta succedendo. In questo momento, bisogna veramente seguire lo che sta succedendo in Georgia. I materiali filorussi svolgono un ruolo anche nel confronto tra l'opposizione e le autorità moldave. Anche qui, i politici si lamentano della propaganda. La società è divisa da una controversia decennale tra i sostenitori del vettore di sviluppo europeo e filorussi. From the standpoint of the current Moldovan government, there's a comeback of the old kleptocratic, oligarchic and Russia-oriented political forces to power. And I think this is the biggest issue in the sense that they use or instrumentalize these Russian narratives to further their own domestic political agenda. Per combattere la disinformazione, la presidente Moldava, Maya Sandu, ha proposto un centro nazionale del patriottismo. Recentemente ha accusato Mosca di preparare un colpo di Stato e di cercare di destabilizzare il paese. La Russia respinge queste affermazioni dichiarando di non interferire negli affari interni di altri stati.